Uno zaino da 30 litri in materiale riciclato, ideale per le escursioni in montagna e perfetto per il tempo libero. Facilmente regolabile per un comodo trasporto e per stabilizzare il carico. E' dotato di cover antipioggia e una comoda rete portacasco per la massima praticità. Realizzato con materiale 100% riciclato. Scopri la tua vera natura.